Nel fine settimana appena trascorso i carabinieri della compagnia di Crotone nel capoluogo in provincia hanno attuato controlli ancora più attenti visto l'inizio della stagione estiva e le maggiori presenze sul territorio. I carabinieri della sezione radiomobile hanno eseguito un mandato di arresto europeo nei confronti di PC rumeno di 36 anni rintracciato nel capoluogo. Nei suoi confronti pendeva l'ordine di carcerazione emesso dalle autorità rumene per guida in stato di ebrezza e porto illecito di armi. Nella provincia invece i carabinieri di una stazione dell'area della Valle del Neto nel corso di un controllo presso l'abitazione di un 23enne straniero ma residente in quella località hanno trovato due motocicli rubati a cui erano stati modificati. Omologazione e numero di telaio insieme all'attrezzatura adoperata per portare modifiche ai veicoli. Il soggetto è stato quindi denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di riciclaggio. I carabinieri di Cutro infine nell'ambito dell'azione di controllo del territorio e nello specifico del contrasto al furto di energia elettrica con il personale dell'azienda di distribuzione hanno accertato l'allaccio abusivo di un residente che attraverso un cavo aveva collegato l'impianto elettrico della propria abitazione direttamente alla cassetta. Di distribuzione. Anche per lui è scattata la denuncia dell'autorità giudiziaria per furto aggravato.